Mentre Gesù si avvicina a Gerico, un cieco che stava saluto lungo il cilio della strada a chiederle l'Emosima, al passare di questo seguito di Gesù col suo seguito, si alza in piedi e incuriosito dice, ma che sta succedendo? Chi è che passa di qui? Era cieco e voleva essere spiegato. E la gente gli dice, sta passando Gesù di Nazareth, Gesù il Nazareno. E il cieco come sente che Gesù sta passando di là, comincia a gridare, Gesù di Nazareth, abbi pietà di me. Gesù di Nazareth, abbi pietà di me. La folla a sentire questo cieco che grida interviene e cerca di metterlo a tacere. E lui grida ancora più forte, Gesù di Nazareth, abbi pietà di me. Perché la gente cerca di impedire al cieco di gridare e chiedere aiuto? Forse pensava che fosse un cieco così, fannullone, uno che vedeva e cercava l'Elemosina per sbarcare il lunario. Forse questo. O forse Gesù teneva una bellissima predica e non volevano essere disturbati. E Gesù invece interviene e dice, fate avvicinare quest'uomo che grida. E fanno largo e accompagnano il cieco davanti a Gesù. E Gesù gli ridà la vista. Il cieco dice, maestro, posso seguirte anche io? Bello, bello la scena. Mentre la folla dice, stai zitto, non darci fastidio, non interrompere la predica, Gesù interviene e il guarito posso seguirti. Nella nostra vita forse anche noi siamo un pochettini ciechi. Cioè non pensiamo un po' alla realtà che ci opprime e ci sconvolge. E siamo schiavi di noi stessi, delle nostre preoccupazioni, dei nostri interessi, delle nostre imprese che magari sono fallimentari. E ci dimentichiamo al momento giusto di gridare, Gesù di Nazareth, aiutami. Gesù di Nazareth, sei tu il nostro, il Salvatore. Dammi la mano e io la prendo e voglio seguirti. E qui naturalmente seguire Gesù è anche mettersi alla sua scuola, ascoltare la sua predicazione, ascoltare il suo insegnamento. Quando noi sentiamo la predicazione ci rimaniamo un pochettino perplessi, ma l'insegnamento di Gesù è stato l'insegnamento bello, semplice, immediato. Vedeva il seminatore, vedete il seminatore che getta i semi nel campo. E così deve essere anche per noi. Dobbiamo seminare sempre. Che cosa? Quale tipo di semi dobbiamo gettare? E' il seme dell'amore, della beneficenza, avere rispetto e aiuto per i bisognosi. Allora sì che noi da Ciechi seguiamo Gesù. Nel tempo che ci stiamo avvicinando, fra poco, fra un mese, due mesi, stiamo sul tempo dell'Avvento, quindi ci stiamo avvicinando a un tempo di riflessione, di meditazione, e perché no anche di un certo sacrificio. Un sacrificio per gli altri, disponibilità agli altri. E questo significa creare un mondo migliore, dare la vista agli altri. Perché se gli altri vedono le nostre opere buone, tencono gli occhi aperti e dicono, ma guarda, io non ci pensavo che si potesse fare anche questo bene. Allora vedete che anche noi apriamo la vista agli altri.